Una data certa per la consegna dei lavori di realizzazione di 32 cappelle all'interno del cimitero comunale di Battipaglia. È la richiesta avanzata dal comitato spontaneo presieduto da Cosimo Panico, che a nome di altri concessionari chiede chiarimenti sia sulla consegna che sulla restituzione delle somme, anticipate in sede di gara, e non dovute perché legate al ribasso. Nell'avviso pubblico, afferma Panico, è previsto che l'importo effettivo dell'otto avrebbe dovuto essere determinato successivamente all'aggiudicazione delle opere, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara. I concessionari hanno il sacrosanto diritto dovere di accertare se il comune abbia agito legittimamente. La consegna delle cappelle in questione, secondo gli accordi, era prevista per settembre, ma per ben due volte è stata rinviata.